Ciao ragazze, chiudo la porta, ci sono troppi rumori, sono abituata a vari video di notte e non c'è nessuno, invece a quest'ora c'è un sacco di... no no non è tardissimo, sono le 18, ciao ragazze, oggi è lunedì 29 aprile, sta per finire il mese di aprile 2024 e sono qui con un nuovo video asta, perché oggi mi sono arrivati un paio di occhiali da sole molto carini che volevo farvi assolutamente vedere e fare un asta. Sono della Dolce Gabbana, è un modello vintage che è però super attuale, mi ho pensato bene di farvi quest'asta. Allora, l'asta come al solito parte da quando vedete il video, dovete essere iscritte al gruppo di Whatsapp del Baulere della Veronica per iscrivervi, basta che mi mandate un messaggio 348-4271-770 con una piccola presentazione e verrete inserite nel gruppo vendita di Whatsapp, dove ogni giorno pubblico delle cose, se non riesco qua su Youtube, lo faccio su Whatsapp. Qualcosina comunque si pubblica sempre. Minima offerta, un euro alla volta, massima offerta, quello che volete voi, fino allo scadere delle ore 21.45 di stasera 29 aprile, scadra l'asta. Qui c'è la custodia, Dolce Gabbana, sono abbastanza adattati, ma sono bellissimi, ora ve li faccio vedere, perché li ho visti prima, li ho anche provati, ma non li stavano, quindi lo scopriremo insieme. Vediamo se riesco a aprire la scatolina, prima si è aperta senza nessun problema, certo devo schiacciare il bottone, sono anche furba. Guardate che meraviglia, questi occhialetti da sole di Dolce Gabbana. Non so dirvi esattamente di che anno siano, ma sono comunque, secondo me, degli anni 90, anni 2000, sono questi. Ora li provo, così vi faccio vedere, sono ancora in perfette condizioni e secondo me sono degli occhiali. Neanche a farlo apposta, oggi che sono vestita tutta di nero, ci stanno tantissimo, sono degli occhiali stupendi. Dolce Gabbana, che comunque è una garanzia per quanto concerne gli occhiali da sole. Questo è il modello e di lato sono così, bellissimi. L'asta, ragazze, parte da 16,90€ e scade stasera appunto alle 21.45. Vi faccio rivedere, mi avvicino. Poi alle ragazze nel gruppo di WhatsApp ovviamente manderò tutti i dettagli dell'occhiale. Intanto cerco di farvelo vedere, è perfetto, è bellissimo. Quindi ragazze, non mi resta che augurarvi una buona asta e noi ci vediamo nel prossimo video. Sono stata un po' latitante ma vi prometto che organizzerò dei video appena ho un attimo di tempo per voi di the shopping. Grazie mille e vi saluto, vi mando un grosso bacione e grazie per aver visualizzato questo video. Asta, speriamo bene e che vinca la migliore afferente. Ciao! Buona inizio settimana ragazze, speriamo nel bel tempo. Ciao! Buona inizio settimana.